Ciao ragazzi! Grande, con una stupenda SL7, di base telaio pro, però adesso Ricky raccontami la bici. Dai diciamo che è un po' pompata ecco, sicuramente allora, da quello che ha fatto la differenza sono le pulegge Ceramic Speed. Partiamo da qua, montata tutta Shimano, Ultegra D2, pulegge Ceramic Speed per gli amanti del bike porn. La bici è un po' sporca, ma bellissima, Rosso Bordeaux, ruote Roval Rapid CL, 61-51, coffertoncini Turbo Cotton, da 28, ma mi sa che adesso verso l'inverno forse allargheremo. Sì, ci sta, ci sta, anche secondo me. Sella? Ebbè, sella è una chicca, stampa 3D della Physique, l'Adaptive. Bellissima. E, bravo che mi stavo dimenticando i pedali, pedali Garmin col potenziometro, i famosi rally. Cockpit, manubrio, S-Works, Aerofly, con il suo supportino per il Garmin, questo che modello è? 5.30. 5.30 con la sua luce, molto molto pulita, veramente figo. E ovviamente anche il radar qua dietro. La sicurezza, come di tutto. Esatto. Peso? Più o meno. Ah, non so, pesa il giusto. Pesa il giusto. Tu l'hai montata veramente da Dio, è molto molto bella. Secondo me è sicuramente abbondante sotto gli 8. Molto molto bella. Fighissima. Tanto dopo non salgo comunque. Non è vero. Torniamo giù. Ricky, grande. Ciao ragazzi. Ciao.